Non so cosa dire perché sono contento nella mia situazione. Grazie all'avvocato Bettinelli che siamo arrivati a questo risultato. Ho avuto pietà a vederlo, va bene, posso dire questo, conoscendolo da vecchia data, cui la legge c'è e l'hanno rispettata. Vi ringrazio. Non ci crede a queste scuse? Come? Non ci crede a queste scuse? No, ma no, ma stiamo scherzando. No, no, assolutamente. È tutto per trarre il suo vantaggio sicuramente perché le scuse non esistono. Riccola, ho appena subito un altro intervento, come sta? Bene, fortunatamente bene.